Dopo una lunga sosta di tre mesi bentornati sul mio canale. Purtroppo non ho potuto girare prima questo settimo episodio, altrimenti avreste sentito solo questo. Dobbiamo ringraziare la vicina di casa che ha fatto i lavori per tre mesi. Non perdiamoci in chiacchiera, andiamo a vedere subito cosa succede. Ci eravamo lasciati al punto in cui la St. Francis passava in vantaggio per 1-0 con la rete di Johnny Mason. Dopo solo i 2 minuti e 46 succede una di quelle cose che mi dà proprio fastidio, e ve lo sapete. Quando cambiano i doppiatori, guardate, a 2 minuti e 46, questo ha questa voce. Forse sono davvero troppo forti per noi. Oh, a 2 minuti e 52 gliela cambiano. Devono solo ringraziare il loro portiere. 6 secondi gli hanno cambiato i doppiatori. Patti incita la New Team a reagire e Holly quindi passa in attacco mentre un nano gli sta in mezzo alle gambe. Cioè, guardate com'è disegnata male la prospettiva qua. Sembra che c'è un nano in mezzo alle gambe o che lui è un gigante. Fischio dell'arbitro. Si riparte quindi a giocare. Splendido scatto, Atton. E Holly fa già una cosa contro il regolamento. Batte da solo. Con uno splendido scatto, Atton ha superato la... Deciso a fare un'azione solitaria, Atton comincia a dribblare tutti. Un dribbling irresistibile. Ne supera uno, letteralmente scava il canto. Arriva tu per tu con Benji e ci prova. E lo lo tira praticamente a un metro qua. Benji lo blocca. E ricordiamo che Atton al primo episodio ha centrato Benji da una montagna. Ora a 5 metri non riesce a metterla nell'angolino alto. Guardate in questa scena. Benji non ha più il guanto. E un secondo dopo ce l'ha. Cioè il disegnatore che cazzo faceva in quel momento? Comunque, la St. Francis riparte in contropiede, ma c'è il solito Oliver Atton che recupera il pallone. Cioè praticamente fa tutto lui. Gli altri non fanno un cazzo. Cioè lui va in attacco. Torna in difesa a riprendere il pallone e arriva in attacco. Gli altri sono dieci carciofi in mezzo al campo. Deve fare tutto lui. E sono proprio inutili gli altri. Comunque, una volta recuperato il pallone, Atton prova un tiro da dietro il centrocampo. Ma non hai segnato a 3 metri. Che cazzo ti riaffare da dietro al centrocampo? Ha fatto lo stesso tiro che aveva fatto contro i Noti Boys. Solo che i Noti Boys a porta avevano una pantofola messa così a casa. E quindi è ovvio che sei... Qua c'è Benji. Che si allena la notte. E infatti il tiro gli va centrale. Ma la New Team è tenace e continua ad attaccare. Questa volta lo fa finalmente non con Oli, ma con Bruce Harper. Sul lato sinistro che mette un pallone al centro. C'è un velo. Figurati se l'ha fatta apposta. Non ci credo manco morto che questo fa un velo. Benji è spiazzato. Arriva Oli di testa. E' senz'altro la palla del pareggio. Oh, il telecronista ha detto... E' senz'altro la palla del pareggio. Che senz'altro è la palla del pareggio. No, non è possibile. Oh, quando parlo telecronista, vai, non entra la palla. Non entra. Benji capisce che la situazione si sta mettendo male e suggerisce una nuova tattica. Ora si fa la gabbia! Eh, la gabbia! Questo schema è talmente sbalorditivo che Arthur nel sentirlo perde la stecchetta laterale degli occhiali e i tifosi in fondo diventano tutti pelati. In pratica cos'è la gabbia? Si dispongono tutti vicini e fanno melina. Si passano sempre nel pallone senza avanzare per perdere tempo così possono vincere la partita. In realtà Oli e Benji hanno inventato il tiki-taka che faceva il Barcellona qualche anno fa. Solo che a differenza che le squadre che giovano contro il Barcellona provano a prendere il pallone. Invece guardate sti babbe della New Team che cazzo fanno? Cioè prima di cominciare ad andarci addosso perdono 40 secondi così a guardarli. Cioè andate a prendervi sta palla state perdendo! Ma niente siccome ci va solo uno addosso non ce la farà mai a prenderla perché basta che la passa la palla. E quindi non avete idea di quanto tempo passa? Non avete proprio idea! Cioè passano ben 4 minuti in cui la St. Francis si passa il pallone così fermi. Tra l'altro se la passano pure male. E quelli della New Team stanno fermi così a guardare! Comunque neanche il pubblico ci sta a perdere così e Patty incita ancora la sua squadra a muoversi. Solo ma che cazzo è successo? Guardate qua quant'è grande la bandiera? Forza Oliver! Non ci devi! E guardate quanta era nella scena iniziale dell'episodio. Dai Oli! Non ti arrendere! Cioè quindi sono due le cose. O il disegnatore si è rincoglionito, si è drogato. O durante la partita Patty si è messa a cucire la bandiera e se l'è ingrandita. No! Dopo 9 minuti si rendono quindi conto che sono degli idioti e dicono ma andiamo a prenderla tutti insieme. Forse ce la facciamo. E quindi partono tutti insieme. E andando tutti insieme infatti ce la fanno a riprendere la palla e riparte la New Team. Ovviamente con Oli. Con chi se no. Quindi Oli Atton scatta verso in avanti. Nessuno è più veloce di lui. Salta Johnny Mason. Evita Bob Denver che... Che cazzo di entrata ha fatto? Riguardiamola. Ma ti pare che uno si butta così per prendere una palla? Comunque Oli lo evita. Arriva davanti il portiere. Fa partire un tiro violentissimo. Ci riuscirò anche il top. Rai si tuffa disperatamente. E riesce a respingere ma la palla torna in gioco. Ce l'ho fatta. E arriva ancora Oli con una spettacolare rovesciata. In questo momento ha defetto una perfetta rovesciata. Ed è gol. Ah finalmente c'è il pareggio della New P. Guardate la ragazza in ruota dei genitori. La mamma sembra una deficiente. Che è sta faccia? È diventata strabica. E guardate il papà. Cioè Oli ha fatto il gol più importante mai fatto finora. E la reazione di un papà al posto di esultare... E con questo gol si conclude il settimo episodio. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. E lasciate un like. Noi ci vediamo all'ottomio episodio. Sempre su questo canale. Ciao!